seconda domenica di quaresima noi ascoltiamo il vangelo della trasfigurazione perché tradizionalmente in questa domenica noi guardiamo in fondo al nostro percorso quaresimale e guardiamo all'annunzio del passaggio del signore alla gloria quindi contempliamo la gloria in questo racconto che è un racconto di preghiera di intimità di solitudine ma siamo messi nella strada della parola di questa settimana di questa domenica dalla prima lettura è il momento in cui abramo ha la sua crisi è il capitolo quindicesimo del libro della genesi abramo è stato chiamato al capitolo dodicesimo lui ha iniziato a camminare ha vissuto le sue esperienze ha fatto i suoi errori ma c'è il momento in cui si chiede dove lo stia portando questo percorso e il signore lo conduce fuori lo conduce in un luogo diverso lo deve tirare fuori dalla sua tenda esattamente così come nel vangelo vedremo gesù che porta fuori i suoi tre discepoli più vicini pietro giovanni e giacomo ecco dio porta fuori abramo l'uomo che è intimo a dio l'uomo che dialoga con dio e gli dice di guardare in cielo e contare le stelle se riesce a contarle e soggiunge tale sarà la tua discendenza qui è il punto capire che attraverso la contemplazione del cosmo attraverso quello che abramo può vedere c'è scritta in questa realtà la sua chiamata la sua realtà la sua dimensione autentica cioè vedere attraverso il linguaggio del creato quel che dio sta dicendo a lui abramo concretamente cioè fissa lo sguardo su qualcosa che non è immediatamente disponibile è il senso recondito delle cose e così noi abbiamo questa esperienza dove i discepoli vengono portati da cristo a pregare su un monte sono tirati fuori dal mondo tirati fuori dalla realtà dell'immediata relazionalità quotidiana e devono vivere un'esperienza e il suo volto cambia di aspetto e la sua veste diviene candida e sfolgorante cioè il momento della trasfigurazione cioè il momento in cui oltre il visibile compare il mistero compare la verità cristo che sembrerebbe essere un uomo straordinario quanto ci pare ma comunque sempre solo uomo appare per la sua piena realtà è qualcos'altro è vero uomo ma è anche vero dio e lui diventa luce questa è una chiamata che è nascosta anche nella chiamata di abramo il quale è appellato a una grandezza che lui non crede di poter raggiungere ad una grandezza che non è immediatamente riconoscibile e così cristo porta all'uomo una grandezza che l'uomo non crede di avere non sa di avere la sua grandezza è un destino di gloria ogni uomo e ogni donna a questa chiamata alla gloria che in cristo si manifesta dice il concilio vaticano secondo che cristo rivela l'uomo all'uomo ecco rivelare è una parola che nella radice vuol dire togliere il velo ecco qui si vede questo svelarsi di cristo che avviene in un contesto ben preciso ed è l'accesso alla verità più profonda alla verità più autentica che noi abbiamo da ricevere da vivere da contemplare questa verità che è la verità di cristo ed è anche la nostra verità si riceve in un contesto ben preciso innanzitutto appunto il contesto e la preghiera ed ecco dice il testo due uomini conversano con lui sono mosè ed elia che rappresentano le scritture mosè è l'autore tradizionale dei primi cinque libri della bibbia il pentateuco ovvero sia la parte più preziosa per israele dell'antico testamento delle scritture secondo israele e elia che è il profeta per eccellenza la legge e i profeti dialogano con cristo cosa vuol dire questo vuol dire che le scritture sono la strada di questo svelamento mentre cristo si svela le scritture spiegano che cosa succede cioè cristo nella sua piena verità è la chiave di interpretazione delle scritture e di cosa parlano le scritture parlavano del suo esodo che stava per compiersi a gerusalemme della sua pasqua della sua rivelazione di risorto attraverso il mistero del dolore della passione della croce della morte quindi è rivelato qui il mistero autentico del dolore illuminato dall'amore che è opera di dio padre in cristo suo figlio lo porta da morte a vita per dischiudere a tutti noi questo percorso questo è l'incontro che noi siamo chiamati a vivere nella preghiera in questo tempo di quaresima per questo appunto in questa seconda domenica di quaresima ci troviamo con questo testo perché noi siamo chiamati alla preghiera siamo chiamati a guardare cristo e vederlo per come è e attraverso lui comprendere le scritture questa è un'esperienza gioiosa questa è un'esperienza bella infatti pietro dice è bello è bello stare qui non è sbagliato ciò che dice pietro è semplicemente incompleto gesù dovrà fare ancora tutto ciò quel che in questo momento questi tre discepoli sperimentano è la comprensione dello scopo l'arrivo al traguardo del viaggio e allora c'è la motivazione del viaggio ma il problema è che c'è ancora da camminare noi capiamo di essere chiamati alla gloria ma dobbiamo camminare c'è questa nube che è la presenza di dio che è l'immagine dell'esodo ovvero sia il momento in cui il popolo cammina guidato ecco questa luce sarà la guida di tutti noi ecco a cosa ci serve tutta questa realtà tutta questa bella contemplazione a camminare verso la pasqua a camminare verso la gloria il nostro cammino non è un cammino di perfezione etica o di obbedienza delle norme religiose no è un cammino verso la luce noi in ogni atto di questa guarisima siamo chiamati a questa gloria attraverso la luce delle scritture noi siamo chiamati a vivere gli atti propri di questa guarisima la preghiera il digiuno l'elemosina come atti per fare pasqua atti pasquali atti che portano alla vita nuova noi siamo chiamati a questa gloria noi siamo fatti per conoscere e prender possesso della piena nostra dignità ecco camminiamo in questa quaresima verso la gloria verso la gloria di cristo verso la nostra propria gloria verso questa dimensione invisibile delle cose questa realtà che si svela attraverso le cose a cui siamo chiamati attraverso gli atti di carità attraverso il servizio fare pasqua ed arrivare alla luce grazie a tutti